Evocata la politica, nessuno potrebbe essere più adatto a continuare il discorso di Piero Colaprico, è uno scherzo ma fino a un certo punto, a cui facciamo molti auguri per il prestigioso e importante lavoro di capo redattore per la Repubblica di Milano, che mi sembra che sia abbastanza recente questa nomina. Voglio ricordare Piero Colaprico che tutti conosciano come scrittore, scrittore di noir e di un noir ci parlerà, il titolo della sua relazione è Lo sbarbato noir milanese, scrittore di noir con Pietro Valpreda, i libri della serie del maresciallo Binda, che poi ha continuato anche dopo la scomparsa di Valpreda, un narratore improprio, cito solo la trilogia della città di M, in cui c'è tre lunghi racconti e che ha vinto il premio Scerbanenco e secuo con la Garraschelli, ma lo voglio ricordare anche come saggista, con i suoi saggi giornalistico militanti, come Duomo Connection, come manager calibro 9, come capire Tangentopoli, se non erro sei tu che hai inventato il termine Tangentopoli, così tramanda la voce del web e altri ancora, come il libro sulla comunità di Donmazzi o il manuale di sopravvivenza per i migrati clandestini, che mi sembra un titolo di una certa attualità, ma qui non so se ridere, ma forse sarebbe meglio piangere. Per non farlo ti do la parola, grazie per essere qui. Grazie a voi, non voglio dire dignus, non sommo, ma comunque. Ho cambiato il titolo, il titolo è diventato Ti va l'aperitivo. Allora, leggerò anche, ma non solo. Da che punto di vista un autore osserva la sua creatura? Come l'aldino di Tirarmattina, anche Mario Lo Sbarbato parla in prima persona. L'autore, Umberto Simonetta, non si piazza sulla collina più distante, non è l'oniscente terza persona, ma sta dentro il cuore, la testa e il corpo del protagonista. E se quella dell'aldino è la storia di un'ultima notte, di un giovane che non è più giovane, di uno che dovrebbe essere maturo, che si ammazza di bevute, sesso, furbizie, voglia di riscatto dalla miseria, una notte vissuta intensamente, coronata, circondata di ricordi, flash, rimandi, un'ultima apparenza di libertà prima di presentarsi nel primo giorno di lavoro onesto, e se non sapete come va a finire, se non avete seguito con attenzione, non vi dico io la fine, quella di Mario, sedicenne, è una storia un po' più lunga, perché è la storia che dura un anno scolastico e una maturità che si affronta qualche anno prima del vero esame finale. Un anno nel quale un ragazzo di apparente buona famiglia, lo scambio continuo tra apparenza e realtà, tra quello che si è e quello che si mostra, quello che si fa e quello che si vuole che tu faccia, affronta, quindi questo ragazzo, affronta il suo essere, il suo modo di dire e di pensare. E ovviamente, più che di buona famiglia, sarebbe meglio dire che lo sbarbato è di famiglia benestante. La buona famiglia, forse se diamo significato all'aggettivo buono, non è la stessa cosa della famiglia dello sbarbato. Ora, tutti gli adolescenti cambiano, talvolta nell'adolescenza scelgono anche da che parte stare nel resto della vita. Lo sbarbato si mette apparentemente in cerca dell'unica cosa che ha, paradossale ma è così, e cioè i soldi, perché lui è uno comodo, ma dietro questa apparenza, questo bisogno di un risultato concreto, cioè fare la grana facile, Mario si imbarca in una caccia quotidiana a quello che cerca veramente, e che sono le emozioni, a volte le emozioni forti. Questa caccia, un po' solitaria, un po' il branco, può portarlo nel sentiero sconosciuto della morte e della violenza. E lui l'accetta nella inconsapevolezza dei giovani o non comprende esattamente quello che sta rischiando? Questa domanda legge in moltissime pagine di Simonetta, e devo dire, anche se sappiamo tutto come ci è stato raccontato, con Oreste del Buono e quello che abbiamo detto, anch'io penso che Lo sbarbato sia un libro più libro rispetto a Tirar Mattina, nel senso che mentre Tirar Mattina è la storia in prima persona di questo ragazzo di 30 anni che si trova a vivere questa sua lunga notte prima di decidere se stare di qua o di là, e quindi ripesca nella sua memoria tutta una serie di rimandi, prima quando Luca Sandri reggeva, si vedeva, sta mettendo sotto i terroni, ma nello stesso tempo pensa alla Milano scassate, i cantieri. Il libro è tutto così, è un libro molto fatto per cerchi e per spirali, questo invece, Lo sbarbato, è un libro che fila diretto, diciamo, come un treno. Ora, ci sono molti modi di essere narratore, e io non posso sicuramente mettermi nei panni di Simonetta, non so nemmeno se qualcuno possa mettersi nei panni di uno che non c'è, ma lo dico a voi che siete professori e che vi siete impegnati nella critica, c'è un autore medio italiano, sa che per molti decenni, per molti secoli, la letteratura italiana è stata una letteratura pensata per i professori, è scritta da professori, cioè Manzoni sente il bisogno di risciacquare i panni in arno proprio per essere accettato da una comunità intellettuale, Emil Zola è uno che risciacqua i panni nel bidet di Lanà, cioè è un altro modo di affrontare la letteratura. Scusate se sono provocatorio, non voglio esserlo, ma però le verità vanno dette, cioè noi oggi in Italia abbiamo come tra gli apici della letteratura Baricco e in Francia abbiamo un Lebec piuttosto che Carrera, voglio dire, cioè in Italia la letteratura è in sofferenza da secoli, per cui io credo che un autore come Simonetta, uomo colto, intelligente, poliglotta, ma volete che non sapesse che la critica poteva anche snobbarlo o che la critica dei professori poteva essere qualcosa che lo guardasse dall'alto in basso? Ma che gli importa, forse? Oppure sì, ti può importare ma ti importa di più la pienezza di quello che tu stai facendo e la sua vita piena è stata sicuramente incredibile. Però, come ci sono molti modi di essere uno scrittore, ci sono anche molti modi di raccontare storie noir e quindi immaginiamo solo per qualche istante che le due trame che hanno per epicentro Aldino e lo sbarbato siano in mano, per citare il fratello maggiore dei giallisti italiani, a Giorgio Scerbanenco. Aldino potrebbe finire nei guai seri per la sua storia con la ragazza minorenne che incontri in un'osteria e della quale leggerà poi le tristi vicende su un giornale. Quindi questo il rimando a Venere privata in qualche modo c'è già. E Mario, lo sbarbato, questo è più facile, perché non potrebbe diventare, se mandato in un doposcuola, uno dei ragazzi del massacro? Non gli mancano infatti spasmi di violenza, il disprezzo per le donne, la visione d'ammitomane delle sue capacità e il senso di impunità. Quindi i libri potevano essere tutti e due molto più violenti, crudi e spietati. Invece Simonetta trova un registro che si sfila dal noir ed entra in quello che si può definire il neorealismo, ma non per farci lacrimare, ma per strappare a noi lettori una rissata amara, come davanti al ceruttigino protagonista della famosa canzone, o per farci scuotere la testa, come di fronte all'imbarazzante ragioner fracchia che gli ha permesso poi il salto di qualità a Polo Villaggio. Innanzitutto, visto da lettore, la lezione di Giovanni Testori non è passata in vano su Simonetta, ma i toni drammatici e involontariamente comici della gilda del Mac Mahon che racconta se stessa in Simonetta diventano puro sarcasmo e critica sociale al benestante, che non è benpensante. Lo sbarbato che è scritto prima del 68, sette anni prima viene pubblicato, abbiamo sentito prima che è dei tardi anni 50, contiene già una contestazione dei figli e i padri che non è politica, è antropologica. Il ragazzo per mettersi contro la famiglia e la società non ha bisogno di letture, di analisi, di connessioni internazionali. E il primo mentore che conosciamo e che oggi è stato citato tante volte è il Mangia, e cioè, uso le virgolette di Simonetta, non è uno di quei ragazzi che si possano portare in casa e presentare così come se niente fosse, facendolo passare per un compagno di scuola. Che lavoro fai? E il Gratta risponde regolarmente. Allora, lo sbarbato che vuole evadere da casa sua incontra, il primo che incontra, è proprio uno di quelli che non può portare a casa. Cioè c'è proprio un filo diretto in questo romanzo, ma fantastico. Cioè io da lettore ho trovato un milione di connessioni tutte precise e tutte puntuali. E non credo proprio che il Gratta possa essere diciamo il progenitore dell'Aldino. Perché l'Aldino è uno incapace a tutto. Il Gratta, porca miseria, ruba veramente bene. Cioè è capace di fare il suo lavoro. Cioè non è un balordo, uno scoppiato. È uno che, pur vivendo nella sua maniera, riesce a portare a casa il risultato. Cioè il Gratta è un po' un alter ego dello sbarbato perché conosce gente persa, odia il padre mentre lo sbarbato in qualche modo il padre lo ritiene un poveraccio, insomma. Ama straordinariamente la madre del Gratta che ingalera perché procura aborti. E sempre il Gratta avanza con una colonna sonora di rutti che sembra fare a comando. Ora, il figlio bene, bigia la scuola, ha 16 anni, abita in centro in Corso Italia, ha la mamma premurosa, il padre severo che si occupa di lui è la colfa. Il mangia sta alla Baia, periferia pesante. Miserabile è il bar che è frequente, il bar colorado, dove c'è un omosessuale che si chiama il bianco. E mi sono chiesto se nella scelta di nomi colorado o bianco ci sia un perché. E in questo posto c'è una tendenza comune di tutti i ragazzi che è quella di cercare la grana facile. Tutti i ragazzi, tutti un po' svitati, un po' della Milano ricca, come Angiolino, che ha in casa una pistola, una Beretta 6,35, che lo sbarbato comprerà. Ricordo a tutti, siete tutti lettori, la lezione di Chekhov. Se si vede una pistola, prima o poi può darsi che spari. E quando Angiolino comprerà questa pistola, cioè lo sbarbato comprerà questa pistola, perché l'Angiolino a sua volta si porterà dietro una più micidiale calibro 9. Poi ci sono ragazzi che sono anche di quartieri proletari, come l'hotello, che ad una sera fa il posteggiatore alla scala e la famiglia dello sbarbato lo incontra quando vanno lì. E quindi gli dice, è un bravo ragazzo che però deve faticare. Oppure ci sono dei pericoli pubblici possibili, come il Renni. Io ho trovato un'assonanza con il berrenè, che mostra il serramanico e lo studente però non arretra. E una volta Mario e un amico vanno a Sant'Ambresa, la pasticceria, credendosi gigolò a caccia di tardone, come dicono loro. E a un certo punto, è una scena veramente divertente, una non male sorride. I due ragazzi così, poi lo sbarbato si volta, da sembra o mai fatta, purtroppo è sua mamma. Voglio dire, Simonetta riesce a mischiare tantissimo questa voglia di evasione dei ragazzi, questa violenza che hanno, queste fantasie, con l'impatto con la realtà. In questo giro di adolescenti c'è soltanto una ragazza, si chiama Grace Kelly, è una che, cito sempre tra virgolette, fuma e benefica i ragazzi anche due per volta nel cesso, ma presta soltanto le mani. Una che è ancora vergine e a 18 anni si farà fare il ciuffo. Ecco, io quando leggo queste cose, pensavo prima al gergo, alle canzoni, a tutto quello che avete detto, mi sono trovato totalmente in sintonia, perché uno che scrive così è uno che ha vissuto quel gergo, ha vissuto quegli ambienti, quei bar, li conosce tutti, non può dire far fare il ciuffo, perché non viene a uno che non ha sentito queste cose. Apro una piccola parentesi, a me è una cosa che fa ridere, che qui e lì ho messo sempre, è una cosa che a suo tempo mi disse Angelo Epaminondo ha detto il tebbano, ed è l'uso dell'aggettivo leggermente. Ovvero sì, ad un certo punto c'era una guerra a Milano, si sparavano tra bande, allora lui ritagliò le fotografie dei nemici che erano pubblicate, credo, sul giorno e le portò in tutti i bar della zona che frequentavano. I baristi dicevano che cosa dobbiamo fare con questo? La risposta era quando li vedete ci dovete chiamare perché noi li dobbiamo leggermente ammazzare. Voglio dire, non può venire a uno di noi l'idea di mettere l'avverbio leggermente alla parola ammazzare, come non viene a dire uno fare fare il ciuffo a una donna, però insomma. Ecco, quindi, però Grace Kelly, così come altre, vengono un po' abbozzate, come la ragazzina giovane che va a casa del mangia, gli dice prendimi e lui si smonta. Cioè, le ragazze in questo universo, siamo ancora negli anni 60, negli anni 70, non sono le ragazze che vedremo dopo, che vedremo negli anni 80, non ci sono ancora le terroriste che sicuramente nell'immaginario della violenza ci hanno cambiato anche la percezione, dico, l'hanno cambiata collettivamente, la percezione del grado di violenza e di capacità di uccidere di una donna, di muoversi esattamente alla pari con gli uomini e nel bene come nel male. Quindi è un libro assolutamente datato in questo, ma molto moderno invece in come l'adolescente si evolve. Ora, tra fughe da casa di nascosto di notte, rimproveri davanti all'ospite, il ragionier benfare, tra le pagele falsificate e una corsa Vespa Auto che ricorda gioventù bruciata, tra le rappini agli omosessuali del parco Ravizza, è la cassiera che si deve sposare, ma fila con un giocatore del Milan, perché è tutto ricco di aneddoti questo libro, spicca il principale del padre dello sbarbato, spicca questo signor Sormani, dal nome della nostra biblioteca amata, che viene definito negriero e in qualche modo sarà l'unico a piegare Mario. Ci prendiamo un aperitivo, ti va? Gli chiede. E Mario risponde, mi deve andare. Lo sbarbato risponde, mi deve andare. Allora in questo momento del libro, secondo me, vediamo che tutta la violenza dello sbarbato, tutta la sua intelligenza, tutto il suo essere comodo, tutto il suo essere un finto vincente, secondo me, tutto il suo essere, diciamo, arrogante, aver usato la pistola, si sgretola di fronte al fatto che il principale del padre, uno che Aldino, che Mario lo sbarbato, vedeva sicuramente con un certo distacco, con un certo disprezzo, con una certa arroganza, perché dice, questo qui fa il negriero, fa il boss con mio padre, ma una sera a cinema mi ha messo la mano sulla spalla, cioè è un uomo sessuale, è una mamma, è una zia, è una cosa così, e invece quest'uomo, che è ovviamente più anziano di lui, padrone di un'impresa, si sa muovere e frega Mario lo sbarbato. E Mario lo sbarbato dice, mi deve andare. Questa, secondo me, non è la mossa di una vincente, è la mossa di uno che deve sopravvivere, che deve darsi da fare. E' il momento in cui un adolescente non è più un adolescente, è il momento della maturità di questo ragazzo. E noi lo lasciamo così, non sappiamo se Simonetta, magari, io non credo, appunto, è difficile da un personaggio con questo tipo di adolescenza ipotizzare un protagonista trentenne, quarantenne. Io sinceramente l'ho immaginato in varie storie di nera mentre leggevo il libro, l'ho visto tranquillamente essere uno degli aguzzini di Terry Broom, ho immaginato che fosse uno che prende le tangenti durante Tangentopoli, ho immaginato che l'evoluzione di Mario lo sbarbato nella vita normale, non nella vita immaginaria, potesse essere questa. Però, in questo mi devi andare, c'è per me la lezione del libro. Se nella vita scegli di essere irregolare, puoi pagarne le conseguenze. Per ora, se non vuoi correre gravi rischi, ti devi andare all'aperitivo, ma poi, dopo l'aperitivo, solitamente c'è il pranzo o la cena e che cosa ti andrà, che cosa dovrai mandare giù. Grazie. Molte grazie a Piero Colaprico che ci ha aiutato a capire molte cose e lo ha fatto, non so se lo posso dire leggermente, no? Velocissimissimo. Mi è piaciuto questo richiamo alla pienezza di vita di Simonetta, perché secondo me vale la pena di farlo, cioè anche di fronte a tanti letterati, professori. Ma tutta la vita, ma scherziamo. siamo davanti a uno che davvero per certi aspetti ci impone una capacità di aderire a tanti aspetti della vita con una appunto pienezza invidiabile. Poi interessantissimo il discorso su che tipo di noir e qui non entro in ulteriori dettagli, ma congiuntura, congiunzione, scerbanenco, testori, mi sembrava molto istruttiva, così come il discorso su questa contestazione dell'antropologia dei padri, discorso che probabilmente si ricollega alla questione del narcisismo e una certa capacità di lettura della dinamica della società italiana da parte di Simonetta, così anche il tema della grana facile che in questo caso si lo unisce a certi testori, penso, per fare soltanto il nome di un personaggio al ballabio detto Brianza della prima sequenza del ponte della Chisolfa. dell'antropologia della Chisolfa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.